...di aprile, ogni giorno viene aggiornata. Voi vedete la stazione per la distribuzione del biometano, nel metano, dove regolarmente vengono, la stazione di distribuzione. E qui c'è la data, perché tutti i giorni, il 20 aprile, tutti i giorni cambiamo il numero. Adesso stiamo andando, sempre nell'ambito della discarica, a ritrovare alcuni impianti che sono accorrendo. Ho detto che a Maragotta vengono conferiti anche i fanghi della depurazione. Cioè tutti i fanghi della depurazione di Roma, sono oltre 400 tonnellate al giorno, vengono conferiti qui. Ma buona parte di questi fanghi necessita, prima di essere messi a dimora, un ulteriore trattamento. È quello che viene normalmente chiamato post-trattamento. A seconda delle caratteristiche dei rifiuti. Questo è il famoso GDR, che nel frattempo abbiamo evitato di mettere a discarica, perché sarebbe disastroso. E davanti a voi vedete una parte dell'impianto di condizionamento dei fanghi. Cioè la parte destinata all'unfocaggio. Allora, adesso... 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 Allora... Allora, adesso... Allora, adesso... Allora, adesso... Allora, adesso... Allora, adesso... Allora, adesso... Allora, adesso...